In centinaia si sono presentati per difendere il loro lavoro e i prodotti italiani. Ci avete tolto la dignità, l'agricoltura muore e le associazioni dormono. Così cartelli nei trattori degli agricoltori al casello 1 di Bettolle per la protesta organizzata dal movimento riscatto agricolo, ma presenti spontaneamente anche tanti agricoltori senza una sigla. I trattori hanno sfilato a passo Duomo sventolando solo la bandiera italiana. Solo una volta e per pochi minuti è stata bloccata l'uscita dell'A1, poi il traffico è ripreso regolarmente seppur con importanti disagi nella viabilità ordinaria. Le ragioni sono che noi siamo arrivati con l'acqua alla gola, non ce la facciamo più a sostenere i costi delle nostre aziende e quindi siamo arrivati a una cosa del genere. E pensi che il contadino è molto individualista. Per essere arrivati a questo punto vuol dire che noi non ce la facciamo più. I prezzi delle materie prime sono aumentate per produrre e invece i nostri prodotti sono calati. La protesta durerà cinque giorni. Gli agricoltori hanno chiesto un incontro al governo e protestano soprattutto per le direttive europee. Al governo chiediamo che riconosca che noi agricoltori lavoriamo tutti i giorni per fornire il cibo agli italiani e per mantenere questo territorio e che ci riconosca il prodotto. Noi non si vuole sussidi ma si vuole che ci venga pagato il giusto prezzo al nostro prodotto. Prendiamoci l'Italia. Cinque giorni fino a sabato. Presidio fisso giorno e notte e poi faremo cortei durante il giorno creando un po' di disagio e bloccando un po' il casello dell'uscita dell'autostrada. In questo momento il problema più grande è la comunità europea perché il governo sia quell'attuale e quelli precedenti firmano le direttive che manda la comunità europea quindi siamo obbligati a rispettarle. Bisogna cambiare passo perché comunque così per l'agricoltura italiana ci troveremo fra cinque anni, massimo dieci anni, cioè è finita, abbiamo chiuso. Noi bisogna proteggere la nostra identità di agricoltori italiani e anche il prodotto italiano perché comunque il nostro prodotto a giro per il mondo è un'eccellenza. Dal parmigiano reggiano alla mozzarella di bufra, olio, vino, quindi bisogna proteggerlo. Però devono proteggere noi agricoltori per questo, anche perché noi siamo quelli che tuteliamo l'ambiente, che siamo sul territorio giorno dopo giorno. Credo ci applaudivano non perché siamo bravi a radunare 400 trattori, ma perché iniziano a capire che il problema non è solo nostro, è anche loro, perché loro sono il consumatore finale e quando iniziamo a stare male noi, la situazione negativa si riflette anche su di loro, aumentano posti e se chiudiamo mancherà il cibo sulle tavole. Non mancherà perché verrà dall'estero, ma la qualità che abbiamo oggi non l'avremo di sicuro.